Ciao, mi chiamo Kevin e sono un fiocco di neve unico e speciale. Lavoro alla Blizzard Entertainment. Ottimo posto per i fiocchi di neve. Alla Blizzard creiamo giochi. No, per essere precisi abbiamo l'ossessione dei giochi. Creare giochi è favoloso, ma anche molto difficile. So cosa pensi. Quanto difficile sarà mai? Difficilissimo. Così tu vorresti creare dei giochi? Ma certo, vogliamo aiutarti. Lo vogliamo a tal punto che siamo disposti a fornirti i nostri stessi mezzi. Completamente gratis. Beh, questa è una cosa che facciamo ormai da tempo. Warcraft 1, 2, 3, Starcraft 1, Starcraft 2. Vedi, alcuni li chiamano strumenti per mod. Noi preferiamo chiamarli creatori d'occasioni per capisaldi di genere. Oppure strumenti per cambiare il volto dell'industria ludica. Per brevità. Vediamo di essere chiari. Qui non si tratta di roba di secondo ordine. Parliamo proprio degli stessi strumenti che impieghiamo per creare i nostri giochi. Ci serve solo un bel fiocco di neve disposto a usarli. Sei bello? Stai tranquillo. Questo è il nostro editor. Sapevi che questo contiene 14.513 modelli grafici originali? E i 22.758 texture tutti pronti per esaltare le tue creazioni? Forse ti piacerebbe sapere che questo sarà il trampolino di lancio per carriere sfavillanti in società di punta del settore. Sapevi che il suo potenziale, il tuo potenziale, deve essere ancora sfruttato? Qualcuno l'ha usato per inventare il pixel. Vogliamo che sia tuo. Blizzard ha appena reso l'accesso agli arcade completamente gratuito. Ciò significa che oltre ai milioni di voraci giocatori che affollano mensilmente la piattaforma, pronti a gustarsi le tue originali prelibatezze videoludiche, adesso chiunque sia minimamente interessato al tuo gioco può accedervi in modo diretto e senza spese. Visto? Non sono il solo essere un fiocco di neve unico e speciale. Tu lo sei. E i meriti di essere apprezzato come tale. E il gioco che vuoi sviluppare merita di essere giocato. Creare giochi è difficile, ma puoi farcela. Hai tutto quel che serve! Sì! Sì!